bala a tutti ragazzi siamo chiptopechup ma sarai te chiptopechup? a me sono luca, luia ammon benvenuti ma infatti perchè lo feo di sempre prese? e non è più personale si che così poi si sente l'audio vogliamo oggi dire grazie al nostro sponsor grazie a il pesto senza io il pesto genovese grazie che ha sponsorizzato questa puntata strafatti di pixel bene quando senza io ecco l'etappo blu vi ricordatevelo oggi giocheremo a il ponte the bridge un gioco meraviglioso un rompicapo the bridge il ponte che non ho ancora capito bene perchè il ponte qual è il nesso del gioco con il ponte un ponte e forse un ponte per un'altra dimensione probabile non può darsi è la prima volta che giochiamo a questo gioco mai giocato in vita nostra questo gioco ma sappiamo che è stratosferico ce l'avete consegnato in tantissimi in tantissimi ci avete scritto dicendoci giocatelo giocatelo perchè è fenomenale vi intrippate il cervello ci sono i due grilletti stra comodi tra l'altro cos'è che accade voi ve lo faccio vedere così capite con quello a sinistra il mondo rotea in senso anteorario con quello a destra il mondo rotea in senso orario ed insomma vedete che il nostro newton comincia a cadere la forza di gravità lo sto tenendo troppo se io continuo a tenerlo premuto non muore se cade no no non muore mai e se cade di testa? io lo sto tenendo premuto adesso hai notato che è come gatti? non puoi cadere di testa perchè? perchè la gravità funziona con lui la gravità rotea nella sua forma eretta ecco cos'è successo allora avete visto cos'è successo? si l'ho visto io adesso sono caduto ma non sono andato a finire giù dove eravamo partiti sono finito su questa colonna vabbè continuiamo il nostro newton cos'è che succede? noi cerchiamo di muoverci cioè cerchiamo ci muoviamo e son caduto e c'è il buco ma è geniale non hai saltato eh perchè non si può saltare in sto gioco ah eh non si può saltare e vabbè io continuo cammino e guardate dove sono finito sono finito lì in questo caso ho bisogno ancora di girare sull'alfa si sono sull'alfa devo girare ancora la gravità così il nostro amico newton riesce a girare girate eccoci qua e vi spostate avanti e indietro esatto dovete andare da un punto A a un punto B il punto A è dove partite il punto B e la porta ed eccoci qua vediamo il secondo livello a questo punto da dove ci porta ogni livello è sempre più impestato naturalmente è sempre più impestato eh perchè è l'episodio di oggi è sponsorizzato dal pesto ci sono dei messaggi subliminali ormai ormai anche lui che si sta facendo prendere eh si ormai dopo tutto questo tempo nooo hai capito Ruben dopo tutto questo Ruben 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 hai capito? dopo tutto questo tempo questo tempo no mentre pubblicità è bravo adesso cosa fai? Con uno scotte Cos'è? Scottex Capito? Siamo nella biblioteca Adesso secondo livello Vediamo un attimo come succede Cosa succede e quando succede Abbiamo una chiave e un lucchetto Adesso sulla porta Da adesso iniziano ad essere lucchettate Le chiavi Allora Adesso cos'è che bisogna fare In questo caso Caduta la chiave Caduta la chiave Guarda c'è anche scritto scivola Scivola No quello è ricola Ricola Va bene Scivola E se scivola cosa succede Non ci credo Scivola il libro E' impressionante Ma perché nasce il simbolo della Mitsubishi Infatti Abbiamo visto tutti Dunque qua quindi Io giro Continuo a girare Esatto Perché se scivola Facciamo scivola Facciamo scivolare Scivola No Esatto E possiamo dire che il gioco Allora eccoci qua No scusate È la prima volta che facciamo questo livello Allora dopo abbiamo Non vi abbiamo fatto vedere la soluzione degli altri livelli Altrimenti in che senso ha A giocarvelo Però vogliamo farvi vedere questo livello In particolare Questa soluzione Perché Questo livello No Questo livello La soluzione Se la trovano da soli Però guardate Notate una cosa Quest'immagine Se girate Gira tutto Sì ma La cosa curiosa È che questa immagine È speculare È inversa Perché se guardate C'è la torre da una parte La torre dall'altra Questa è la parte dietro Della parte sinistra Ah sì davvero Non mi ero mai accolto Ecco La parte destra È il dietro Della parte sinistra Ma anche la catena Certo la catena Vedi che si intra No la catena Sì no la catena Eh sì ma Non vedi che in realtà Funziona con la stessa gravità Ok Sì però c'è la catena Quindi due cittadini di là Eh sì Ma il fatto è che funziona Con la gravità Della catena che c'è A sinistra Perché altrimenti sarebbe Al contrario la gravità Versa Sì certo Quindi questa immagine È ingannatrice Eh Cosa succede Ci sta dicendo Di schiacciare A Vediamo la A Tutto gira È girato tutto Perché? Perché? Perché adesso siamo Di bianchi Dove siamo? È così Ho perso il colore È diventato ancora più vecchio Era già vecchio Perché per entrare dentro A una porta bianca Dobbiamo battere Di bianchi Eh mi sembra giusto Direi che È stato bello È stato bello Spero che vi sia piaciuto il gioco Spero che non abbiamo Non abbiamo Turbato troppo le vostre menti Con le nostre demenze Senili E comunque Ruben che crede che la sedia È un mitra Ecco Va bene Ok Si carica Continua Rambo Abbiamo il Rambo Ok Va bene Facciamo finta di niente Ciao Ciao ragazzi Non dimenticate di guardare Gli altri giochi Perché sono Uno più bello Dell'altro Sì sì Guardate Gli altri gameplay Se avete consigli Iscriveteci Commentate Se avete altri giochi Da suggerirci Come questo Ditecelo Che noi Come abbiamo fatto oggi Naturalmente Come ci avete consigliato Abbiamo giocato E siamo rimasti davvero Molto colpiti Positivamente Grazie perché Ci avete fatto scoprire Un bel gioco Grazie agli undici Quanti erano? Quelli che c'erano? Undici Grazie agli undici Che ci hanno richiesto Che hanno insistito Che hanno insistito Molto Tutti e undici Ci hanno chiesto Di farlo Sì incredibile Fratello Tu fratello È ancora tuo fratello No Undici fratelli Dai adesso Va bene Ciao Addio Addio E ricordatevi Ricordatevi Quando non avete tempo Fatevi un pesto Esatto Alla genovese Magari sotto al sole Con delizio dal sole Senza aglio Senza aglio Ma come senza aglio? Eh perché altrimenti Poi l'alito Sì È senza aglio No è più buono Con l'aglio Però Però con basilico fresco Eh Beh Eh Va bene Va bene Ciao 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 Ciao